I covid positivi non possono fare la raccolta differenziata e quanto dispone l'Istituto Superiore di Sanità per limitare il rischio contagio. I positivi in isolamento domiciliare sono la maggior parte di coloro che hanno contratto il virus e per loro vi sono apposite disposizioni di smaltimento dei rifiuti. Si è disposto la dismissione della raccolta differenziata e la concentrazione di tutti i rifiuti domestici da parte di queste utenze covid positive, ripeto a domicilio, che devono a questo punto mettere tutti i loro rifiuti in un doppio sacco e classificarli rifiuti urbani indifferenziati. In sostanza smettono di fare la raccolta differenziata, tutto ciò che producono diventa rifiuto urbano indifferenziato e noi siamo stati la prima regione a fare questo modello di servizio dedicato. Il problema infatti è che non c'è una posizione univoca da parte degli scienziati su quanto i rifiuti possano rappresentare un rischio. È noto che il virus può sopravvivere sulle superfici anche per alcuni giorni, seppur con una carica virale molto bassa e quindi materiali riciclati e riutilizzati potenzialmente potrebbero essere una fonte di contagio. L'Istituto Superiore della Sanità ha detto tutto ciò che viene prodotto da un'utenza domiciliare in quarantena, positivo al covid, smettono di fare la raccolta differenziata e mettono tutto nel bidone o nel doppio sacco, come ne dicevo prima io, come rifiuto urbano indifferenziato. Quindi è stata una misura precauzionale. Polemiche sono state sollevate a proposito della pulizia delle spiagge. Alcuni giorni fa i balneatori hanno alzato la voce chiedendo di poter accedere alla spiaggia e rimuovere i rifiuti portati dal mare. Marsilio ha quindi predisposto un'ordinanza ma ora dovrà aggiungere il nulla osta del Governo nazionale, l'unico che può allentare le maglie e delle restrizioni imposte. Per parte di competenza del servizio di gestione dei rifiuti abbiamo dato subito il parere favorevole per la rimozione di questi rifiuti. L'ordinanza è stata predisposta. Io ho avuto poi notizia ieri da parte del mio direttore di dipartimento che il Presidente si è sentito con il Ministro della Sanità per valutare questa iniziativa. Sembra che il Ministro abbia detto che uscirà dopo Pasqua, periodo entro cui è scattata questa prima restrizione delle attività produttive, si deciderà anche su queste attività di carattere turistico balneare. Ad ogni modo il settore dei rifiuti è uno di quelli considerato strategico. I netturbini dall'inizio dell'emergenza non hanno saltato un giorno di lavoro e sono quindi tra le categorie a rischio. Abbiamo imposto ai gestori dei servizi un potenziamento di tutti i DPI, cioè i dispositivi di protezione individuali, per cui tutti gli operatori sono stati poi muniti di mascherine, di guanti monouso, di tute specifiche. Abbiamo imposto ai gestori dei servizi un potenziamenti.